Buongiorno, sedetevi. Mi chiamo Maria Drasdiehova e sono la vostra nuova insegnante. Ora leggerò i vostri nomi. Ognuno si alzerà in piedi e dirà ad alta voce qual è il lavoro di mamma e papà. La compagna insegnante vuole un favore da te. Ha bisogno che tu faccia una cosa. Ah, vieni, Danca! L'unica parente che ho è mia sorella, ma vive a Mosca. Sono mille chilometri da qui. Il padre di Danca Kucerova lavora in aeroporto, no? Che diavolo le salta in mente a quella scrofa comunista? Vuole mandare dei dolci in aereo a Mosca. Ma l'ho studiato proprio ieri con mio padre. Malamente. Ho detto chiaramente che non farò mai niente del genere. È già il terzo brutto vuoto, Danushka. Non so cosa ci sarà in pagella. Sono molto felice di ritrovarvi tutti per questa riunione straordinaria dei genitori. Forse questa è l'occasione per liberarci di lei. Non immagini quello che succede a scuola. Cosa c'è di male se le persone si aiutano? O avete tutti paura? Spero non voglia firmare anche lei. C'è qualcun altro che ha delle lamentele? La compagna insegnante è la presidente del partito comunista. Siamo esseri umani. Ci dobbiamo aiutare, no? E poi, come sapete, io non sono vendicativa. Siamo esseri umani.